Assessore, all'appello di quella che è la tassa IMU cittadina manca circa mezzo milione per quanto riguarda l'annata 20-22, soldi che possono sicuramente essere utili alla comunità. Ci spiega un po' la situazione? L'IMU è un'imposta che non si paga più sull'abitazione principale ma sulle seconde case e su altre pertinenze. Sono partiti in questi giorni l'attività di accertamento in sinergia con Aspes per l'IMU non pagata. Stiamo parlando di un importo relativamente contenuto di poco meno di mezzo milione, di 425 mila euro che diventano 600 comprese delle sanzioni che derivano appunto da una mancata riscossione da parte dell'IMU, da parte di chi invece avrebbe dovuto pagarla. In realtà va detto, va evidenziato come il bilancio del Comune di Pesaro sia un bilancio sano anche grazie alla fedeltà fiscale che viene dai pesaresi. Con la fedeltà fiscale che ci consente oggi di poter erogare servizi, in particolare penso le politiche di welfare, quindi politiche educative e politiche sociali, che sono tutte quelle spese di parte corrente del bilancio che si possono sostenere, si possono portare avanti, quindi sostenere questi servizi anche grazie alla fedeltà fiscale e agli introiti che derivano dalle entrate tributarie del Comune.